Ha pervaso l'intera regione, lo stadio della vittoria oggi era un vulcano d'entusiasmo. Alla fine tifosi juventini felici. La Juventus ha fatto subito capire quali erano le sue intenzioni, ma è stato il Bari ad andare vicinissimo al gol con Rideout, che ha dato vita al duello più interessante della partita con Brio. Ma la Juventus ha colpito in una fase della partita piuttosto tranquilla. Cabrini ha trovato il varco giusto nella barriera ed ha battuto Pellicanò. La Juventus ha sofferto in fase di interdizione, ma Platini ha fatto anche il Bonini e non ci sono stati i problemi, soprattutto perché è giunto il gol di PIN ad archiviare l'incontro. I giocatori del Bari si sono fermati pensando che l'arbitro Pieri fischiasse la punizione. PIN no ed è stato il 2-0. Dopo sei minuti è giunta la rete di Briaschi, servito alla perfezione da Mago Michel. PIN no ed è stato l'arbitro Pieri, servito alla perfezione da Mago Michel. PIN no ed è stato l'arbitro Pieri, servito alla perfezione da Mago Michel.